Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Fine settimana di attività per la Polizia Stradale di Mese, impegnata con i nuovi controlli sui divieti alla libera circolazione imposti dalle misure anti-coronavirus. Nella serata di sabato, intorno alle 23, durante un'operazione di controllo stradale lungo la SP30 nei pressi di Traona, uno scooter non si è fermato dopo che gli agenti gli avevano segnalato lo stop, dandosi poi alla fuga, in modo da poter sfuggire ai controlli degli uomini della Polizia Stradale. Ne è immediatamente scaturito un inseguimento che si è protratto fino al paese di Traona dove il conducente dello scooter è stato fermato. In sella alla moto un trentenne oppì le sue iniziali residenti a Dardenno, già noto alle forze dell'ordine e con precedenti penali al quale era stata sospesa la patente di guida. Nei confronti dell'uomo è scattata una denuncia in quanto sorpreso a circolare fuori del proprio comune senza un motivo giustificato ed altre contestazioni per la condotta di guida e per la circolazione con patente sospesa. Ancora nella serata di sabato, lungo la SP30, nei pressi del comune di Talamona, gli stessi agenti della Polizia Stradale di Mese avevano proceduto alla denuncia di un altro uomo, questa volta sorpreso a camminare sul bordo della strada senza alcun motivo giustificato per potersi trovare all'esterno del proprio comune di residenza.